E signori bentornati dal vostro carissimo ferro, oggi proveremo un qualcosa di davvero assurdo, ovvero tutte le migliori qualità contro le peggiori a livello di risoluzione, ok Powa? Cioè si è capito o no vero? Allora, sì sì sì, allora ho capito l'unica cosa che c'è uno da me che mi vuole abbastanza rompere il sedere, da quello che ho capito Ok, io nel frattempo ho già killato uno, c'ho 180 fps a malapena con la 4070 vecchio, cioè per farti capire raga io c'ho tutto epico letteralmente, vedo tutta la mappa di Fortnite da una parte all'altra, vedo tipo a 5000 metri Bellissima, cioè io preferirei letteralmente tutta la vita avere la tua qualità che quella peggiore, quella schifosissima che ho io Vabbè chiaro, la sfida è appunto fatta per questo, cioè nel senso è miglior qualità contro peggiore, purtroppo Powa ti è capitata la peggiore, è un caso strano eh ma proprio sai che abbiamo... No, chissà dove mi è capitata, lo vogliamo dire, lo vogliamo dire No, ti giuro che abbiamo girato, vogliamo dirlo sì, ho girato una ruota e è uscito Powa, 100% proprio per questo Oddio non mi ricordo se è andato così, però va bene comunque, sai di fatto, da me c'è uno, da te ci sono persone eh Io posso dirti una cosa, sì ce ne stanno anche tante, se permetti voglio andare a killarle quindi dividiamoci distanza che devo per forza vincere la partita Nel frattempo raga sono un pollo perché me ne stavo andando qua sotto sperando ci fosse il bunker ma non ci sta neanche il boss raga in questa mappa Quindi vabbè, comunque allora iniziate a droppare un like, iscrizione, codice ferro per il massimo supporto raga Dobbiamo andare a killare un bel po' di persone qua eh, vedete di mostrarvi a ferro perché ho voglia di fare un sacco di kill oggi Allora signori, questo qua mi sta dando letteralmente del filo da torcere, io voglio evitare perché già come sapete voglio vincere me la sta partita Questo qua mi sembra anche abbastanza forte eh, oh ok, è qua sopra, è qua sopra Bom 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 bom, ok distrutto ma non credo fosse lui sapete? Non credo fosse lui perché quello di prima mi aveva preso il muro, mi aveva aperto ma non sono sicuro fosse lui Vabbè comunque, signori prima che ce la siamo fatta, molto bene Mi è sembrato di sentire un gatto, o almeno così dicevano Attenzione, ragazzi è palesemente un tizio nascosto eh, c'è palesemente un tizio nascosto qua da qualche parte Due tizi nascosti, oh porca paletta raga Sì va, sì vabbè raga, vabbè questo è entrato in tutto No raga, qua mi vuol prendere dal muro qua, aiuto, ok Situazione assurda raga, cioè orrenda ovviamente, veramente devastante e schifosa Devo riuscire a killarli raga, allora il fatto che comunque io possa fullboxarlo così è bello Devo entrare in box per forza però, no ma era suo il muro Ok fermi, fatemi ricaricare raga, qua dovrebbe essere tutto mio no Ma è riuscito a scappare, ma come ha fatto a scappare? Nel frattempo può ne ha killato uno raga E un tizio qua sopra di me non si muove a pusharmi Quindi devo pusharlo io ma sono messo molto peggio di lui raga E questo è il grande problema, porca paletta Raga ve lo giuro ma questo è troppo forte, aiuto la micicchina Ottimo raga, non ne ho uno contro Ho ben due e questo lo devo pushare per forza Questo lo devo pushare per forza, ok Tirato questo Pam 20, 90 Raga uno di vita No way Devo prendere il muro Ok ucciso Buono, 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 buonissimo Allora fermi Fatemi andare a prendere il suo pompa Dove stava il pompa? Voglio il pompa blu Ok buono Fammi prendere questo Cecchino Mamma mia signori Ok Ora il ferro è messo letteralmente molto meglio Abbiamo una kill come Powa Presumo E vi ricordo a voi per tutti Codice ferro dei negozi oggetti Sempre, per sempre Per il massimo supporto Mi raccomando Grazie a tutti quelli che lo continuano ad utilizzare Oddio c'è uno What the fuck Da dietro Da dietro raga Non lo vedo Eccolo là c'è uno Ma cosa sta Ma raga ma ce n'è Mamma mia ma quanti ce ne sono Non sto capendo letteralmente nulla Allora con calma Con calma raga Con calma Oddio mio Oddio me sono tutti contro di me Sono tutti contro di me Calma 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 Powa Ok ucciso Perfetto Era pure la mia taglia Ok questo qua è quello di prima Oh mio dio raga Un fenomeno Ok Distrutto Ok no raga Cioè questo qua è letteralmente la lotta tra titani eh Se ci pensate Perché Allora è bianco Ok let's go baby Oh bene 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 Allora raga 3 kill già subito Oh mio dio Posso dirvi una cosa Comunque con questa qualità è veramente imbarazzante Io raga le sfide di ferro Sapete Non le faccio più O se le faccio Le faccio perché Non lo so Mi regala skin L'unica cosa per cui io Possa fare altre Delle sue challenge così Vedo che su questa challenge sta funzionando Io spero che non notiate Lo schifo Che sto giocando io Anche perché voi il video lo vedete in alta qualità Io lo vedo ecco In più che basta Cioè io lo vedo proprio in qualità Più un abbo Attenzione perché qua ci sta ancora il tizio Raga l'ho visto Da una fessura di una finestra Zitti Ok Sta qua raga Non riesco bene a capire dove raga Questo qua ricordiamo che non ha missato un colpo Questo qua letteralmente non ha missato uno shot prima Quindi Stiamo attenti Dovrebbe star qua raga Dovrebbe star qua Ma non ci sta No raga ve lo giuro Scomma ha rotto le scatole Guardate Scommetto qualsiasi cosa Che lui tra un po' Mi spona fuori da un muro caso E mi killa Raga ma è veramente così tanto Pensavo che uscisse dal muro il fucile a pompa Raga ma dove sta Cioè ve lo giuro raga Siamo già in 22 persone nel frattempo Ma what No Eccolo lì Lo sapevo raga Fermi No 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 Ok fermi No 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 Raga Non riesco a giocare con questo R Ok No 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 Ucciso let's go Mamma mia signori Altro che Mr. Savage Altro che tutti i problemi del mondo Ma quanto so forte a fare sto giochettino Signori Boom Edita 3 Ed shot Boom Edita 3 Ed shot Let's go C'è un problema raga Io magari da qua tipo 5 metri Risco a vedere so forte Ma poi Non riesco a vedere più niente Sapete perché? Perché è tutto pixelato Non si capisce nulla Sa di fatto ragazzi In questa partita c'è anche ferro Quindi ecco Io voglio evitare di morire Voglio tipo combattermelo come ultimo Magari ti raggi una cecchinata clamorosa Comunque me lo voglio distruggere raga Per fargli capire che effettivamente è più forte Ovvero io Sono il più forte Anche con la qualità diciamo indecente Cecchino oro ragazzi Porca boia Sto messo di lusso eh Se ci pensate Perché un cecchino Un pompa viola Una R C'è una R Questa arma qua ragazzi Che è clamorosa Io direi che ci sto Allora dovevo ammettere una cosa raga Che spero che renda nel frattempo questa qualità Perché vi giuro che da me raga Si vede meglio di un film Veramente Letteralmente meglio di un film Nel frattempo fatemi sapere nei commenti Chi vi dice la secondo voi Noi abbiamo già 3 kill Non 2 ok Non so perché raga Pensavo di avere 2 kill Questa cosa è strana Non ho mai fatto una terza kill Non so perché il gioco mi conti 3 kill O forse si Boh non mi ricordo Comunque il pova dovrebbe essere ancora vivo Quindi il lambo per noi E si ritorna a pushare Oh 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 Fermi tutti signori Ci sta un player che non mi sembra neanche il più forte del mondo Quindi Sai che cosa vi dico Io me lo killo in questa maniera 71 Bam 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 Edit Mamma mia signori Che giochettini Ok allora Glisco non era il più forte del mondo Però 6.000 Ce le lascia volentieri Ti ringrazio brother Cioè perché erano 4 Avevo letteralmente letto 6 Eh vabbè Facciamo finta di nulla Comunque Prendiamo questi E basta Torniamo a pushare signori Ci abbiamo pure il rampino Comunque il pova dovrebbe essere ancora vivo Quindi il lambo per noi E si ritorna a pushare Ah in tutto questo raga Come al solito Io e Pua Giochiamo Abbiamo la partita più o meno insieme E finiamo insieme Cioè raga letteralmente Sembra che io e Pua Ci stream sniperiamo A vicenda nelle partite normali Ma non è così raga Noi avviamo e diciamo Vai si parte col video Boom Sempre nella stessa partita Raga assurda sta cosa Sapete cosa vi dico raga sto punto Cioè allora intanto 14 persone in una save così grande Non le ho mai viste Cioè raga Ma perché muoiono tutti subito Quando ferro deve fare tante chilo Ok che ne abbiamo 4 Comunque non è male la cosa Però capite Come faccio io a fare Un bel record di chilo Altro contro Pua Se ci sono 14 persone E nel frattempo Complimenti alla mia 4070 Sempre se è una 4070 Non mi ricordo neanche Che sta tenendo i 240 fps Con attenzione Ve lo dimostro Che sennò qua Pensate che gli aumenta Oddio ragazzi ma questo Ma Ma questo Ma Ah 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 C'è stato un player E Pua No raga Era Pua E Pua no Ma è Pua per forza Questo Oh mio dio Ok Vieni qua Allora Non voglio fare niente Non voglio avere a che fare Con questo Oh mio dio Ragazzi Stavo cillando Ma chi è Nel caso Oh mio dio Che fastidio Ok Ok fermi Dove sta No 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 Quanto scappa Si Ucciso Signoriera davvero Pua Non ci credo Let's go Ok Fermi tutti ragazzi Abbiamo vinto più o meno per forza No Ma raga Ma ha ucciso ferro Ma si può Ma io dico Ma si può Bravo 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 ferro Adesso che mi ha ucciso Adesso che mi ha ucciso Come ti senti Diciamo che il fatto Che la qualità La qualità del mio pc Sia decisamente Dieci volte maggiore Si è sentita la cosa Cioè Molto Ma piuttosto Quante kill avevi te 3 kill Sì lo so Tu ne hai 5 Io sono più forte Io no Semplicemente ho incontrato 3 persone Me lo sono uccise a tutte Poi sei arrivato tu E meglio tu Tu sei arrivato Io non sono venuto da te Sei te che sei venuto da me Ma poi eri tu Quello col medaglione Orco che cicchinata In realtà No Non ero io col medaglione Ma perché stavo andando Da quelli col medaglione E ad un certo punto Mi ritrovo Questo qua Stavo facendo il nabbo Dentro la macchina Dico vabbè ma non mi ha visto Dai Ma smetti il nabbo Stavo facendo vedere Tutte impostazioni epiche Ma che Oh porca paletta Stavo venendo pure io Allora In ogni caso Signor Powa Io lo dico Può tornare a rimettere Le sue impostazioni Perché effettivamente Sì avevi le impostazioni Peggiori di Fortnite O più o meno raga Giusto per non vedere i pixel Tu li vedevi pure i pixel Sì li vedevi Li riuscivo a contare 1 2 3 4 Sì sì Poi ce n'erano Forse un po' esagerato Nel farti mettere La brutta qualità In ogni caso Io qua devo procedere A tornare a vincere Io vi ricordo a tutti voi Codice ferro Nel legazzo oggetti Per il massimo supporto 6 kill E si va dritti Verso La vittoria No 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 Nessuna vittoria Spero che tu muoia Senti fai una cosa Tu piuttosto Rispostati nella stanza E vai a commentare Qualche altro player Che secondo te può battermi Ok Dai Vediamo che vincere Spero che vinceranno gli altri Ciao Sì di sicuro Allora ragazzi Vediamo chi è che è Questo anonimo 294 Allora 3 kill anche per lui Quindi le mie stesse medesime Il problema è solo uno Non è ancora morto ferro E deve morire subito Proprio subito Men che non si dica Oddio Ci sono perso Ah no ok No 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 Sta andando delitto Quello col medaglione ragazzi Questo qua Posso dire una cosa Non mi sembra un fenomeno Quello lì è quello col medaglione Tra l'altro Non mi sembra un fenomeno Attenzione Tra l'altro ha le mie stesse kill È fantastico come Letteralmente Mi ha ucciso ferro Perché non l'avevo visto Ok Un fight molto interessante Incredibile È proprio anonimo Ok Ragazzi è stralento Questo qua come gioca Cioè allora Non è scarso Ma non è Manco quello che secondo me Potrebbe vincere Se ve la dico tutta Cioè ferro Ferro è più forte di questo qua Allora vediamo Ok Ok prova col piccone A prendigli il muro Ma quell'altro ragazzi Ha meno ping Eccolo qua Orco non l'ho visto Non l'ho visto Mamma mia ma Ragazzi ma Quell'altro come sta facendo Scusatemi eh Come sta facendo Non lo vuole combattere Uh vuole prendersi la macchina Vuole scappare Ha capito che questo qua È bello forte Però non riesce a scappare raga Comunque la safe toglie un pochino No è verità toglie uno Scherzo Ti converrebbe brother Eh fare quello che stai facendo adesso Esatto Oppure semplicemente combattono Non capisco perché non lo combatte Eccolo qua Eccolo qua ragazzi Lo vede Oh Ok 44 di vita Più 30 Oh Ha pochissima vita Eh vabbè è morto raga È morto Ok raga fermi Ci sta un medaglione qua Ce ne stanno più di uno Ah Ce ne stanno tre Ci sta uno con un medaglione E uno con due Il tizio col medaglione Sta sicuramente qua Sta qua precisamente Ok No raga fermi Eccolo là lo sapevo Tutti con me Ok fermi Questa raga è bravo eh Questa raga è molto bravo Ok No Ma che è successo No raga No raga Ok Piano Raga ma Ma raga ma Ma perché è tutta Ma raga Ma ce ne stava Una a destra Una a sinistra Un'altra a destra Ma cos'è sta cosa A destra davanti Posso dirvi una cosa raga Letteralmente No senso Giocare con le impostazioni Alla massima qualità E alla minima È impossibile Cioè raga Non si può giocare così Ok raga fermi Potrebbero essersi cambiate le cose Pua Come dispetto diciamo Da parte del video Nei miei confronti Puoi iniziare intanto l'1v1 In questo momento Mi trovo io Con tutte le impostazioni ridotte Però per dirti Sto facendo 450 fps Allora Sì è vero Cioè la cosa buona È che tu fai tanti fps Perché sì Però Cioè io mezzo la chicchio Però è molto Eh vabbè raga Sì devo ammettere che Praticamente siamo Noi prima inversi Ok quindi Non ci morire Pua se arriva i tre Guarda vieni qua Grande Grande Tranquillo No ma tu non hai capito una cosa Però ragazzi Ok che non vedo nulla Ma raga Letteralmente Posso fare ogni edit A la velocità della luce Sì sì Non primi lego di un minimo Bravo bravo Fai edit Fai edit Che intanto Pua ti spara va Sì ma intanto Il fatto di spararmi Non mi fa nulla Perché in ogni caso Bomb distrutto 135 In bocca proprio Forse mi conviene Non parlare troppo Eh raga Anche perché Guazzo qua con i suoi Flicchetti del cavolo Picchia forte eh Eh Allora però Però c'è da dire una cosa No Fuck No Sai cosa c'è da dire 30 white c'è da dire Beh meno male che solo 30 Perché se no Credo sarei morto Esatto proprio per quello Mamma mia Signor Pua Buonanotte Buonanotte Ok 1 a 0 per me Let's go Perché tu nel tuo video Ti eri divertito no A andare contro L'unreal Che non giocava da un sacco Adesso ti ribecchi invece L'unreal Con 400 fps Che ha ricominciato a giocare Eh vediamo se fai ancora il figo Vabbè adesso ha ricominciato a giocare Ah T'ho distrutto Ha ricominciato a giocare Cheat Sempre lui che mi mi sta 12 golpi ferro eh Che dici Intanto secondo me Siamo 1 a 0 per me Quindi io non Se fossi in te Non parlerai troppo eh Attenzione Anche perché questa La vinco pure io La stai facendo E che cosa stai facendo No 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 Non mi ha sparato il bomba Non mi ha sparato il pompa Non mi ha sparato Mero lì Indovina chi si fa pure a morire No 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 Eh grande dai Uh bravo Vieni Il punto è che io capisco Veramente poco e nulla eh Eh è normale no Stai facendo un sacco di fps Peccato che il tuo piccino Sia forte come il mio E non riesci a reggerli Ma è molto più forte il mio del tuo eh Allora a quanto pare Sono proprio nettamente più forte io di te E basta c'è questo invece Ehi Ehi Saltella Perché non hai saltato Eri stramorto Sì No Sì Sgove di due di vita Ragazzi Se il mio pompa lo facesse 38 Potrei anche killarti ogni tanto Comunque uno pare Mi è piaciuto Bravo bravo Ancora due fa E te lo dico eh Li vinco al volo io Ok Si cambia Si switcha Intanto Intanto Sono Sono Come si chiama Aspetta Non mi viene il termine Sei un hub No 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 Affanbego Sono aperte e scommesse in chat Ecco non mi veniva Semplicemente potete votare nei commenti Chi Volete votare Cioè GG il fatto che non ti venisse Allora fermi Senti Senti Calmati eh Dica che sta traiardando tanto raga Peccato che Esatto Nonostante traiardi Non riesca comunque a far nulla contro il ferro Dove cavolo stai Ok Oh Prendi Oh Quanto Ah si Bella i ground Oh cavolo Oh mio dio Godo Lo giuro E' stranissimo non giocare con i propri settings Cioè il fatto che Anche se non cambia più di tanto Mamma mia Buonanotte San Che è tardi per te I bambini devono andare a letto Quest'ora Oh Cabile Guarda che ti devono l'amicizia Non giochiamo più insieme Non facciamo più video insieme Senti, devi fare l'ultima, io inizio a ricordare una cosa Tutti voi, codice ferro nei negozi oggetti Like, iscrizione Ma io non capisco perché non so più fare i 90 Te lo dico io perché? No, no, non lo farai No, non lo farai Te lo dico io perché? Signor Powa, io la saluto qua Mi ricordo, like, iscrizione, codice ferro a tutti Passate anche dai suoi canale GG, ci vediamo nel prossimo video, bella rega Brutto no, no, brutto piccolare no Brutto no, brutto no Non l'avrei fatto